Buongiorno, oggi 7 novembre, un lunedì, la giornata un po' freschina, non fredda, freschina ma sempre con qualche raggio di sole, bene o male il cielo è terzo, diciamo una buona giornata, ancora questa appendice di estate continua e continua anche il nostro discorso con il governo italiano, con la situazione italiana più che altro, in questa situazione ci siamo anche noi cittadini perché non è che bisogna mettere sotto il riflettore soltanto il governo italiano, ma soprattutto i cittadini italiani che fanno parte di una nazione. Il nuovo governo è quello che è, non si sanno più notizie, non si sa niente, attualmente la prima ministra è in giro, chissà cosa andrà a dire, cosa potrà offrire l'Italia oltre che è un pasticcio, cioè noi per quanto riguarda questi che chiamano migranti, apriamo tutte le porte, mentre Malta che ha un centimetro da casa nostra non fa entrare nessuno, avete capito? Già dobbiamo partire da questo qua, prendo un goccino di caffè per aprirmi di più le idee stamattina, però quando penso a certe cose purtroppo si offuscano sempre di più. Stavo dicendo, per quanto riguarda questo sbarco di migranti che è in fase industriale, sbarchi continui, centinaia e centinaia di persone che io non vedo che cosa abbiano questi tizi, non sembrano ben nutriti, ben vestiti, hanno i telefonini, non lo so, a volte non vorrei essere cinico, non lo sono per niente in queste circostanze, attenzione, non fraintendetevi, però mi sembrano più quasi dei turisti che scendono, che fanno una traversata e passano da questa parte. Io proprio di emigrante come eravamo noi, se vediamo i nostri filmati quando partivamo da Genova facevamo atterrire perché la fame si leggeva in faccia, cioè proprio la fame si leggeva in faccia e andavamo a sfamarci, non so, in Venezuela, in Argentina, in Brasile e così via, oppure in zone molto più vicine di casa come in Svizzera, Germania, Belgio, Francia e così via. Ma questi tizi non mi sembrano come le nostre immagini quando partivamo da Genova, ripeto, con la faccia piena di fame, la nostra faccia esprimeva e comunicava solo fame e povertà. Questi qua non mi sembrano proprio poveri, poveri, mi sembrano ben messi pure, ben curati, quasi supernutriti, forse sarò cinico a dire certe cose, forse qualcuno dirà tu non immagini da dove provengono questi tizi, indubbiamente certo in territori non di pace, dove la guerra è di casa, dove si può morire in qualsiasi momento, ma tutte queste cose succedono perché i popoli che stanno discretamente, noi ci mettiamo nei popoli non supernutriti, attenzione, forse qualche zona della nostra Italia è supernutrita, ma l'Italia è precaria. Ma tutte queste cose che succedono, questi problemi che hanno tanti altri cittadini, africani, medio orientali e così via, tra guerre, pestilenze, torture e così via, la colpa io penso che in minima parte è anche nostra, nostra nel senso di italiano, perché non è che l'Italia si è comportata sempre bene, abbiamo fatto sempre orecchie da mercanti, ci siamo girati dall'altra parte quando bisognava vedere effettivamente il problema, non abbiamo mai trattato questo argomento, perché sappiamo benissimo che nelle zone africane l'acqua è come per noi il petrolio, la benzina, è una ricchezza immensa e noi facciamo finta di niente, noi anzi l'acqua ce ne fottiamo, la buttiamo a destra e a manca, ne consumiamo a non finire, loro per avere un po' di acqua non solo per le persone ma soprattutto per gli animali, un esempio lampante diciamo così dimostrativo è che attualmente in alcune zone dell'Africa stanno morendo tantissimi elefanti perché si sa che l'elefante durante la giornata non solo che ha bisogno quasi quintali di cibo per sopravvivere, ma ha bisogno litri e litri di acqua, si parla di 160 litri e purtroppo quest'acqua non c'è, ma dico se tutte queste cose sono successe, sono successe anche perché i popoli cosiddetti più evoluti, più ricchi non hanno mai pensato di risolvere questi problemi di questi popoli, li hanno lasciati sempre nella povertà, li hanno sempre rubati perché ironia della sorte dove c'è tantissima povertà soprattutto in Africa c'è sotto sotto anche tanta ricchezza e che questa ricchezza viene sfruttata da parte di questi cosiddetti personaggi popoli più civilizzati, più ricchi e lasciano questi poveri cristi nella povertà più becera, perciò un mia colpa lo dobbiamo fare un mia colpa perché noi siamo anche colpevoli di questi fatti, non abbiamo mai affrontato questi temi in maniera seria. Poi non parliamo quello che abbiamo in Italia, perciò io mi chiedo, un rappresentante o una rappresentante che c'è la prima ministra attualmente che gira, cosa va a dire in giro per il mondo? Cosa può fare l'Italia? L'Italia può fare soltanto da contenitore di spazzature, gli emigranti fatele venire tutte da noi e noi in cambio che cosa abbiamo? C'è quando Malta non fa sbarcare nemmeno un tizio, uno non lo fa sbarcare, l'abbiamo visto in tante circostanze, c'è noi in fin dei conti che ruolo abbiamo in questa cosiddetta UE? Quella di spazzatura, contenitore di spazzatura dove c'è da buttare le spazzature vengono da noi, questo dobbiamo fare e allora questo dimostra che è una nazione che non esiste, una nazione che si vende, è come una prostituta, la prostituta si vende in cambio per denaro e così facciamo noi perché da queste situazioni abbiamo dei piccoli privilegi, soprattutto i politici, stando tranquilli perché sistemano il sistema mafioso, non dimentichiamoci fin quando c'è il sistema mafioso in Italia non ci sarà pace, non perché lo dice Antonio Adamo, perché è così, è inutile che ci nascondiamo, è inutile che facciamo finta di non capire, è inutile, la mafia è sempre presente attualmente in questi periodi di crisi quando c'è la crisi e guarda caso che la crisi ogni anno, ogni due mesi, puntualmente ormai da sempre, l'Italia vive in una crisi perenne e la mafia grazie a questa crisi si fa sempre più grossa, prendo un altro coccio di caffè. Io capisco che vi disturbo, che a molti dà fastidio sentire Antonio Adamo, ma Antonio Adamo è la vostra coscienza che vi piace o no, voi sapete che dentro di voi siete intorto, siete dei vigliacchi, siete dei codardi, fate finta di non vedere certe cose, fate finta di non far sentire neanche ai vostri figli, ai vostri parenti, a chi amate di più nella vita, di evitare queste cose per non essere, come si dice qua, sprucidi, cioè per non essere come dire, poco accattivanti, essere diciamo così, che danno fastidio, cioè è inutile comportarsi così, è inutile perché fin quando in Italia ci sarà il problema mafioso ed è un problema grossissimo perché non si sa come risolverlo, cioè io penso che per risolvere definitivamente questo problema mafioso ci dovrebbe essere una reazione ammettendo che ancora ci sia un 50 e 50%, cioè il 50% di popolazione sana e il 50% di popolazione inquinata, mafiosamente parlando, sperando che ci sia un 50 e 50%, ma io ho qualche dubbio, trovare un 30% di persone integerme, persone per bene è già difficile, perciò neanche una rivolta popolare potrebbe mettere a posto questa situazione perché una parte dove esistono diciamo un 30% di persone per bene potrebbe ribellarsi e dire noi questa mafia, questi mafiosi, questi delinquenti non li vogliamo più e mettiamo per ipotesi, una volta succedevano queste guerre per quasi ideologia e allora ammettendo una rivoluzione del genere io penso che il 30% non potrà mai mettere in ginocchio quel 70, diciamo 65, 60, 65% anche perché purtroppo anche se esistesse questa insurrezione da parte delle persone per bene difficilmente riuscirebbero a risolvere il problema perché quei bastardi, bene o male, essendo dei delinquenti, sono anche armati, sono anche armati, questo è. E allora questo problema poi, se noi ci vogliamo ragionare nella nostra storia, è stato sempre sottaciuto, anzi molti fanno finta di niente, non è che qualcuno, qualche politico abbia detto durante questi 160 anni rivolgendosi, purtroppo noi abbiamo un protettorato che è quello di Mamma America, non ce lo dimentichiamo, non è che noi siamo liberi, lo abbiamo visto in quel teatrino di Craxi quando fece capire o dimostrò che l'Italia era una nazione sovrana, è finita come è finita, l'America si è irriterata per il momento in buon ordine, ma quel povero Craxi gliel'ha fatta pagare di santa ragione, gliel'ha fatta pagare in maniera amara, è andata a finire in esilio, vi ricordate? L'hanno fatto crepare là in terra straniera, in Africa. Noi abbiamo un protettorato, ma io non ho mai sentito un politico che abbia detto, io sono qua da 70 anni quasi, metà di questa unità nazionale, non ho mai sentito un politico dire ora ci rivolgiamo a Mamma America e cerchiamo di combattere come Mamma America ha fatto in alcuni periodi della sua storia quando c'era Kennedy che è salito con i voti, si dice, della mafia e poi una volta al potere voleva distruggere la mafia e anche il povero Cristo di Kennedy, John Kennedy, fece una brutta fine, a Dallas se ricordate bene. Però non c'è stata mai una volontà nazionale espressa attraverso magari un politico che abbia detto, ora vado da Mamma America e chiedo un aiuto affinché si possa sconfiggere veramente questa mafia. Se vogliamo guardare attentamente questa storia c'è stato un piccolo, come dire, virgolettato, è stato nel periodo del fascismo, quando stava salendo al potere il signor Benito Mussolini che prima giustamente come un grande politico e un grande governatore dell'Italia si è fatto un giro per vedere quest'Italia com'era combinata. Certo, sarà andato pure a Bolzano, sarà andato in Trentino, sarà andato in Val d'Aosta, sarà andato in tutti i posti, l'Emilia magari la conosceva bene, sarà scesa a Napoli, un bel momento e è andato a finire in provincia di Trapani. In provincia di Trapani, lui ancora non era Benito Mussolini che tutti conoscevano, stava incominciando a salire, voleva rendersi conto di com'era sistemata quest'Italia. E giustamente Benito aveva un codazzo dietro, come giusto che sia, anche per un fatto di protezione che avviene realizzata ai politici. E allora arrivato in questa zona di Trapani, c'era un tizio con la coppola seduto di una certa età, proprietario di queste zone dove lui stava entrando con questo codazzo. Al che questo disse, e voi chi siete? Lui a Mussolini. Mussolini ripetevi che era un politico e che stava facendo un giro per vedere la situazione nazionale. Il tizio seduto là, che si chiamava Don Ciccio, senza saper leggere e scrivere, disse venite qua Don Benito. Benito, attenzione a quei tempi, era una persona molto, come dire, pronta allo scherzo, era quasi un burlone, poi è diventato Mussolini, perché purtroppo insieme ai pazzi si diventa pazzi, poi insieme ad Adolf dovette accettare la pazia del tedesco. Ma prima Mussolini, dobbiamo essere sinceri, era una persona quasi burlona. E allora dice, Don Ciccio che c'è? Ma perché siete venuti con tutti, in dialetto ovviamente, che ci voleva quasi un interprete, non è che Mussolini ha capito tutto, c'era qualche interprete dietro. E allora questo Don Ciccio gli chiese, perché vi siete portate tutte queste persone dietro? Allora con molta gentilezza Mussolini gli spiegò che quello è da protocollo, certe persone devono stare dietro perché devono salvaguardare le spalle dei politici. Glielo spiegò in parole poche. Dice allora se facciamo così, Don Benito, disse Don Ciccio, la prossima volta che venite qua, sempre in dialetto trapanese, dovete venire da solo, tutti questi tizi qua non li dovete portare, perché quando venite in casa mia non dovete avere paura di nessuno. Mussolini gli ha detto, grazie Don Ciccio, terrò presente questo suo invito. E se ne andò. In quel momento Mussolini aveva capito che cosa voleva dire entrare a Trapani, dove la mafia era presente, ciò vuol dire che quello là, Don Ciccio, si sentiva non proprietario delle sue terre, ma il capo di quel luogo dove viveva. E' il classico esempio mafioso. Mussolini ci fece un sorriso, fece buon viso a cattivo gioco, accettò tutto, salutò Don Ciccio e ritornò a Roma. E fece presente la situazione sicula, perché ebbe altre testimonianze ovviamente giranti in Sicilia, che la situazione era sempre quella. Chi entrava in un posto c'era un tizio che comandava tutto, che comandava pezzi del territorio italiano. La classica mafia. Mussolini spiegò tutta la faccenda in Parlamento e siccome era una persona che amava l'Italia, e amare l'Italia vuol dire risolvere i problemi italiani, non poteva non vedere quella situazione, l'ha denunciata e ha cercato di porre fine. portando in Sicilia di nuovo, perché già c'era stato, un grande prefetto. Il cosiddetto prefetto di Ferro, il prefetto Mori, che in meno di tre mesi si ritornò di nuovo al Parlamento e si disse, discutendo questo problema della mafia in Sicilia, o di questa situazione anomala siciliana, che non esistevano più proprietari di territori cosiddetti nazionali. La mafia ebbe, ma una battuta d'arresto incredibile, è stata sgominata, sono stati tirati fuori come topi, anche perché dimostrarono molti mafiosi di essere dei vigliacchi quando furono veramente attaccati dallo Stato. Ma fu l'unica volta in 160 anni che si cercò, anche se non si riuscì al 100% a risolvere il problema, ma che si cercò di combattere la mafia in Italia. Ed è il periodo di Mussolini quando stava salendo al potere, attraverso il prefetto Mori. Certo, poi c'è da discutere, perché quando il prefetto Mori, che aveva distrutto quasi totalmente la mafia, mancavano i tizi che stavano al Parlamento, coloro che già con la mafia convivevano, perché la mafia ha avuto sempre dei rappresentanti. A quel punto Mussolini fece una grandissima puttanata, documentata nel film, che lasciò di stucco un po' tutti gli italiani e soprattutto il prefetto Mori, che insieme a Spanò, se vi ricordate, si chiamava Spanò, il suo braccio destro, quando si salutarono dal treno si misero a piangere tutti e due. Dici, mi sento, disse il prefetto Mori, gli avevano detto che doveva finire, che il suo compito era finito, che la mafia l'aveva, e lui invece sapeva che non aveva preso i principali tizi della mafia, ossia i politici, i quattro politici, e lui sapeva pure chi erano questi politici. Disse a Spanò, piangendo, mi sento come un chirurgo che ha operato, operato e l'ultimo tocco che dovevo fare di questa operazione l'ha lasciata così. ha fatto veramente una metafora perfetta. Mi sento come un chirurgo, dice che ha operato fino al 99%, ha lasciato l'1% e praticamente quell'operazione col tempo non servirà proprio a niente, perché ritornerà di nuovo quella malattia. Avete capito? Perciò c'è una sola scena in 160 anni dove si vede attraverso questo film ipotetico qualcuno che vuole combattere la mafia. Cioè prima di Antonio Adamo, che io l'ho sempre voluto combattere da piccolino, che mi ha dato sempre fastidio, anzi mi ha fatto sempre schifo, e io avrò parlato con tante persone che si considerano mafiose, ma le ho potute sopportare a volte per umanità, a volte, ma se avevo la possibilità di mettere in galera quelle persone, a vita, l'avrei fatto senza mezzi temi, anche se quel tizio che avevo di fronte era un mio zio o mio padre, lo avrei messo a 41 bis a vita, senza uscire più, neanche per vedere una moglie, nessuno, l'avrei fatto. Purtroppo a volte mi sono trovato e siccome certe persone non si possono eliminare, anche se dentro di me c'era lo schifo e provavo lo schifo più, quei due minuti che sono rimasto magari a parlare con certi tizi, dentro di me il volta stomaco era incredibile, perché ho avuto sempre un'idea di far finita con questa. Noi dovremmo vivere meglio della Svizzera, perché abbiamo le possibilità culturali, la storia e tutto per poter essere superiore alla Svizzera. Ma fin quando c'è questo cancro nella nostra società, ammettendo che si continui così, ammettendo che la formula non si possa cambiare, perché è da cambiare immediatamente per quello che abbiamo attualmente, un'Italia fallita, fallita da 30-40 anni, e cosa giriamo a fare? però l'unica cosa che si dovrebbe combattere veramente e seriamente sarebbe la malavita, perché fin quando ci sarà la malavita e fin quando ci saranno le crisi come avvengono da oltre 30 anni in Italia, la malavita, nei momenti di crisi, diventa sempre più grossa. si fa avanti, fa affari, presta soldi, fa saltare in silenzio con minacce, attentate, danneggiamenti e così via, ed è sempre presente, soprattutto quando ci sono questi momenti o periodi di crisi, perché quei delinquenti che vivono o sono proprietari delle banche non prestano soldi se non hanno persone che ti facciano vedere il doppio di quello che tu presti, vogliono le garanzie doppie, se tu mi presti soldi per fare una casa loro vogliono vedere già due appartamenti, ma se io avevo due appartamenti non venivo in banca a chiedere questo prestito, ma io mi posso permettere di venire in banca e chiedere un prestito solo se faccio vedere alla banca che ho un minimo o due appartamenti, allora a quel punto forse qualcosa si muove, ma le banche non prestano niente, invece l'utilità della banca, il resoconto di una banca, cioè la logica di una banca, la presenza di una banca dovrebbe essere proprio questa, aiutare le persone che devono sollevarsi da un periodo triste economicamente parlando e spingerle a investire con l'aiuto appunto della banca. Invece la banca se non vede le garanzie doppie non dà neanche un centesimo a nessuno. Prendiamo i pensionati, ultimamente è uscito qualcosa attraverso l'Inps, con garanzia Inps, ma i primi pensionati non avevano diritto a prestiti, ora c'è qualcosa, ma qualcosa, mettiamo, se noi andiamo verso un pensionato che è di invalidità, che magari questo pensionato pur prendendo poco ha bisogno sempre di 3.000-4.000 euro avendo mettiamo 70 anni, vuole comprarsi una macchinetta, vuole darla a un figlio per farsi aiutare, non è possibile, perché gli invalidi non possono avere prestiti, non possono avere prestiti, anche se percepiscono una discreta pensione che potrebbero sempre 200 euro, 150-200 euro al mese sottrarli a quella pensione, ma lo Stato dice che i pensionati invalidi non devono avere aiuti, mentre gli altri pensionati se sono ultimamente da qualche anno si è vista qualche convenzione che è uscita fuori attraverso l'Inps che garantisce alcune banche, ma non tutte, non tutte hanno accettato questo meccanismo, avete capito? Cioè in Italia non si fa mai niente, l'Italia è una nazione fallita, immaginate come questa nazione possa arrestare questa malavita che noi viviamo tutti i giorni e che si alimenta attraverso queste crisi, attraverso queste crisi. Se questi buffoni erano veramente di destra, ammettendo che esista la destra, ma io lo so che la destra e lo ripeto fino alla noia, è nata ed è morta con Benito Mussolini, quello che veramente combatté la mafia a viso aperto attraverso il prefetto Mori, ma poi anche lui fece una grandissima puttanata quando arrivò all'apice e si dovevano arrestare i quattro parlamentari che vivevano nel Parlamento italiano, disse che la missione del prefetto Mori era finita, che era ormai una questione politica, ma cosa voleva dire la questione politica? Questa è una delle più grandi puttanate che ha fatto Mussolini, Mussolini ha fatto una puttanata incredibile che è stata commentata dal prefetto Mori che ha detto io mi sento dopo che l'hanno fatto diventare senatore, che l'hanno tolto proprio dalle palle, io mi sento come un chirurgo che ha operato fino al 99%, quell'1% che bastava l'ultimo colpo per finire questa operazione non gliel'hanno permessa, avete capito? Espanò disse è vero, è vero dottore e si mise a piangere con lui quando si lasciarono al treno che si distaccarono a Palermo, avete capito? Se c'è stata una persona che ha combattuto la malavita, la mafia, la camorra, l'andrangheta, come volete chiamare queste organizzazioni, è stato Benito Mussolini attraverso il prefetto Mori, andate a vedere questa pagina di storia che ci appartiene a tutti, non destra, sinistra, sud, di centro e cose, ci appartiene a tutti, tanti anni di sinistra che chiamano sinistra, quale mafia hanno combattuto queste della sinistra? Ma neanche gli ultimi che dicono di essere di destra, o sono state 15 anni fa che sono oggi, questa mafia non la combatte nessuno, nessuno, anzi, molti di voi siete là al Parlamento grazie ai contributi che vi dà la mafia, perché ci sono delle intese con diverse organizzazioni mafiosi, è inutile che ci veniamo a raccontare la favola di Cappuccetto Rosso, là bisogna guardare quel Parlamento, l'ultimo e anche quello precedente e quello ancora prima, di tutti i collusi con la mafia ce ne sono a Iosa o ce ne sono state a Iosa, ma siccome non c'è una giustizia indipendente in Italia che è un altro problema grosso di una nazione che è già fallita, perché se una nazione non è fallita la giustizia bene o male salta fuori, io ho visto situazioni in Colombia che quando una arriva in Colombia parla della Colombia senza offesa per questa nazione che io rispetto, rispetto tutte le nazioni del mondo, la Colombia sembrava senza giustizia, sembrava senza, mi riferisco al periodo del grande delinquente che avevano, il primo del mondo, vi ricordate il più grande narcotrafficante al mondo, eppure un bel momento quando hanno visto che non se ne poteva più l'hanno combattuto e l'hanno eliminato sui tetti di una sua abitazione, l'hanno fatto fuori, avete capito? perché la giustizia bene o male quando una nazione diciamo è intera, non è fallita, non ha forte crisi o presto o tardi viene fuori, ma quando la giustizia nasce in un'azione fallita cosa può venire fuori? Niente, niente, in Italia non viene fuori niente, la malavita non viene contrastata, anzi, quando ci sono delle persone di un certo prestigio dal punto di vista mafioso, vincono tantissimi processi perché si possono permettere i migliori avvocati e lo Stato non può fare niente, e lo Stato soccombe, avete capito? Io ho fatto l'esempio della Colombia perché è classico, quello se ricordate si era messo in testa di sostituirsi allo Stato, in qualche modo c'era stata una lotta alla mafia a Escobar, diciamolo col suo cognome, Escobar che è stato il più potente di tutti i tempi, c'è stata una lotta ma era stata una lotta timida, si cercava in qualche modo di convivere perché non dimentichiamoci che un tizio del genere dava da mangiare oltre a che tutti i suoi parenti, i suoi amici a tantissime altre persone perché girava miliardi di dollari, miliardi di dollari, ma quando un bel momento questa persona è diventata troppo invasiva, addirittura si voleva sostituire allo Stato, la Colombia che è una nazione forte, veramente forte, ha tirato le palle fuori lo Stato e la giustizia è venuta a galla, Escobar è finito, gli hanno fatto fare una brutta fine perché non è possibile che possa comandare un tizio in una nazione e metterla a tacere perché Escobar è da assimilare o da mettere sulla stessa piattaforma del di Riina perché anche Escobar tentò di combattere lo Stato come Riina questi sono i pazzi del neanche della storia della quotidianità che escono fuori ma escono fuori in nazione dove sono deboli e l'Italia si dimostrò allora con Riina debolissima perché quello che è successo in Italia in Colombia non è mai successo perché quando lui alzò veramente la testa Escobar Escobar scomparì dalla circolazione non lo presero nemmeno lo lasciarono sui detti crivellato di colpi avete capito perché una nazione se sana o prima o poi la giustizia viene fuori ma la giustizia italiana non esiste perché la nazione italiana è fallita è fallita ecco perché Riina e compagni hanno avuto la possibilità di dare quella dimostrazione di forza terribile veramente terribile che se avevamo in quel periodo a Beirut Palermo era tipo Beirut quello che è successo a Palermo forse neanche a Beirut sono successe quei fatti ma perché perché lo Stato è debole perché la nazione forse non esiste più perché il rapporto che c'è tra malavita e Stato ormai è interscambiabile non si capisce più e un cittadino non sa se deve guardare lo Stato o guardare la malavita questo succede in Italia e oggi come poi ha detto l'amico di Riina Provenzano dobbiamo ritornare con la testa sott'acqua dobbiamo stare zitti dobbiamo fare i nostri interessi in silenzio e così la malavita si è riduffata ed è sott'acqua e vive e prospera tranquillamente avete visto qualche reazione da parte dello Stato anche ultimo hanno detto due parole che bisogna combattere la malavita frase finita e l'arresta nell'aria chi è che combatte questa malavita se noi parliamo con i diletti interessati che sono le forze dell'ordine poveri Cristi si lamentano stipendio da fame e giustamente uno che prende uno stipendio da fame rischia la vita qualcuno certe volte dei poliziotti dice ma lei da dove viene ma lei è italiano ma siamo sicuri che lei è italiano cioè io con 1500 euro al mese con due figli una moglie che devo mantenere che facciamo la fame e non arriviamo alla fine del mese a volte non ci danno neanche la benzina per girare qua con la macchina io devo rischiare la vita giustamente giustamente è da arresto quello che mi sta dicendo quello quello è uno delle forze dell'ordine non dovrebbe mai pronunciare una cosa del genere perché se io faccio quel lavoro che poi non è un lavoro è una missione come può essere anche una missione il maestro il professore io non potrò mai dire 1500 euro la benzina non c'è io devo andare perché uno delle forze dell'ordine è in guerra deve essere come un soldato sempre in guerra non può guardare se c'è questo se non c'è quello deve stare zitto e agire invece quelle mi elencano mi elencano che non c'è neanche la carta igienica non c'è la benzina 1500 euro si e no che prendono 1600 euro e hanno due figli una moglie che non lavora fanno la fame durante queste sono le situazioni perciò stiamo parlando di una nazione fallita perché se noi andiamo in Germania tutti questi problemi non ci sono non ci sono io l'altra volta ho visto un filmato l'anno scorso ma neanche neanche un anno fa di Solinghre qualche volta ho fatto un accenno vi ho accennato qualcosa di questo video che ho visto in televisione era sulla Rai proprio sulla Rai e quando ho sentito Solinghre ho avuto un sobbalzo no? tipo trasalire come dicono i grandi scrittori quando scrive trasalire sì perché sentendo Solinghre sono stato un paio di volte negli anni 80 80-81 ero ragazzo posto stupendo io non sono stato mai in America ma non penso che l'America sia più ricca di quelle zone là allora c'erano ancora due germani io scendevo a Bonn e poi mi facevo Solinghre Wuppertal Düsseldorf e così via zone stupende perché andavamo in discoteca andavamo a cercare le ragazze era era un paradiso e quando senti Solinghre dentro di me c'è stato un sussulto indubbiamente ascoltai attentamente cosa stava dicendo questo ragazzo era un giovane giornalista che era entrato in questa casa di una emigrante italiana esattamente proveniente dalla Puglia provincia di Bari e stavano discutendo come si trovava che aveva una bella casa veramente una bellissima casa un bel momento questo giornalista alquanto giovane voleva fare la sua domanda per fare un piccolo scoop dice signora ma lei quanto prende al mese allora l'avessero detto forse a mia moglie qua avrebbe fatto uscire il giornalista dice lei questa domanda gliela va a fare a sua cugina a sua nepote a qualcuno della sua famiglia perché noi qua non accettiamo certe domande invece lei abituato ormai in Germania con una mentalità prettamente diversa ha detto un attimino e andata dall'altra parte in un'altra stanza ha preso uno statino e l'ha messo davanti alla telecamera io da lontano ho visto subito 3950 questa volta non ho avuto un sussulto ho avuto diciamo così una reazione che è stato un salto dalla poltrona ho detto ma sto leggendo bene e mi sono avvicinato alla televisione allo schermo era 3950 al che il povero giornalista disse signora guardi io la ringrazio di avermi portato lo statino ma non volevo lo statino di dicembre no dici questo non è lo statino di dicembre questo è lo statino d'aprile lo statino d'aprile lei dici da maestra materna in Germania prende quasi 4000 euro dice sì non solo ha detto devo essere onesta io ho due bambini che accompagno personalmente a scuola perché sono a un paio di chilometri da casa mia con la macchina e lo stato mi dà altri 250 euro per la benzina io sono caduto nella poltrona signori miei ho detto non è possibile cioè mia moglie quei soldi non li ha visti neanche in dicembre ma quale dicembre mia moglie non ha visto mai 3000 euro e neanche 2800 euro qualche volta qualche volta 2007 nel periodo di dicembre che c'era tredicesimo quella ad aprile prendeva quasi 4000 euro più di 4000 euro perché prendeva i 250 euro che lo stato le dava per la benzina e signori miei fare l'Europa così è bella ma perché si può fare l'Europa così perché la Germania è una nazione sana come la Francia come per certi versi potrebbe essere anche la Svezia l'Inghilterra che ora non c'è più che se n'è andata sono nazione alquanto sane o quantomeno hanno un grande rispetto o una grande attenzione per il proprio cittadino o per i propri cittadini l'Italia è governata da individui che pensano soltanto alle loro tasche loro vanno là investendo dei soldi ma senza nessun ideale loro hanno una sola idea in testa non ideale che viene in Italia a fare il politico i politici italiani hanno una sola idea arrivare a quella poltrona prendere i soldi e poi fottesene di tutto e di tutti perché loro hanno raggiunto il loro scopo perché 90 su 100 non hanno mai lavorato hanno sì forse un titolo scolastico un titolo universitario ma non hanno avuto mai possibilità di lavorare hanno fatto di tutto si sono venduti l'anima al diavolo per poter raggiungere quella poltrona e una volta raggiunta la poltrona loro dei cittadini non gliene fotte proprio un cazzo devono in qualche modo aiutare chi li ha aiutati e spesso e volentieri sono delle persone malavitose questa è la situazione che c'è in Italia e questo giro vizioso non lo spezzerà nessuno perché ormai le persone corrotte che mi sta ad ascoltare sapete perché non parla non dice niente perché dentro di sé ha un'anima corrotta ha una mente corrotta è stato chissà in quale raggiro per poter portare avanti il figlio per poter farsi una casa per poter avere delle amicizie che poi magari lo hanno aiutato in seguito per i nipoti per altri figli e così via ecco perché le persone non parlano e questa è la classica immagine di un fallimento totale l'Italia è fallita l'Italia è tutta corrotta se le persone non parlano e parla Antonio Addama Antonio Addama parla perché giustamente come qualcuno può dire classico stupido cretino parla perché non si è mai inginocchiato davanti a nessuno sì io non mi sono mai inginocchiato davanti a nessuno e ne sono orgoglioso sarò anche uno stupido perché se tutti si sono inginocchiati e hanno avuto il loro tornaconto io sarei addirittura un tizio da mettere in galera perché dici qual è l'imputazione l'imputazione è che mentre tutti rubavano mentre tutti si vendevano mentre tutti facevano quello che facevano tu invece non facevi un cazzo perciò sei un incapace tutti sanno rubare e tu non sai rubare non ti sei mai inginocchiato perciò meriteresti di andare in galera cioè io fra poco vedrò sicuramente qualcosa che i 4 o 5 che non ci siamo mai inginocchiati davanti a nessuno ci metteranno in galera perché siamo stati delle persone che non siamo stati buoni e capaci di rubare mentre tutta l'Italia stava rubando ecco perché l'Italia non esiste più nessuno parla perché nessuno parla perché sono tutti stati in mezzo a compromessi se non fatti illeciti che sono stati reati e perciò nessuno può parlare parla Antonio Adamo perché giustamente non si è inginocchiato davanti a nessuno però Antonio Adamo sotto sotto ha delle critiche perché dicono e beh certo non si è inginocchiato perché è un incapace perché non sa rubare pure se gli mettono la pappa davanti alla faccia lui non sa mangiare non sa fare niente e allora arrestatelo ci dà pure fastidio un tizio del genere avete capito com'è la situazione? io lo so perché voi non dite niente perché voi siete tutti compromessi siete tutti compromessi pure in famiglia qua parliamo anche dei familiari cioè io ho contro tutti non è che ho contro soltanto i quattro amici o migliaia di amici che avevo prima ora preferisco avere pochi amici tanto questo cazzo di Facebook fa girare soltanto una ventina di personaggi che cazzo tengo a fare duemila tre mila ho preferito avere pochissimi amici ma io lo so perché gli amici non rispondevano ma non rispondevano neanche quando erano tre mila tre mila e cinque sono arrivato pure a quattro mila perché sono tutti nella stessa barca perché hanno rubato tutti perché sono stati tutti incompromessi e perciò non possono parlare parla Antonio Adamo perché è stato uno stupido che quando tutti stavano rubando e stavano si stavano inginocchiando per avere favore a destra e a banca lui non ha fatto un cazzo perciò in una giustizia così teorica io dovrei andare in galera perché sono stato un incapace il capo di imputazione sarebbe incapace quando tutti rubavano e lui invece non sapeva fare niente è rimasto indietro avete capito ecco perché sbraita ecco perché è rimasto l'unico all'opposizione veramente prima c'era un'opposizione che sbraitava che facevano i cani da guardia oggi neanche quelli perché l'opposizione l'hanno riportata di nuovo al governo e i cani da guardia sono finiti ma Antonio Addamo se andasse al potere opposizione o non opposizione io sarei sempre lo stesso questo lo prometto non a voi perché di voi me ne fotto lo prometto alla mia coscienza al mio principio interno che è serio serissimo e se mi date la possibilità di governare l'Italia ma l'Italia con carta bianca un mese un mese ve la metto a posto ve la metto a posto non come questi buffoni i primi che andranno in galera saranno i miei parenti i miei parenti familiari pure avete capito se sbaglia qualcuno della mia famiglia vai in galera immediatamente vi faccio vedere come non ci sarebbe spazio per nessuno non guarderei in faccia e nessuno dici ma quello è stato un tuo amico sì però abbiamo scoperto che ha combinato un fattaccio e lui va in galera e se ci vuole il 41 bis lo mettiamo pure al 41 bis e se lo dobbiamo buttare fuori in esilio perché si dovrebbe ristrutturare questa forma dell'esilio perché quando una persona non è buona tante persone questi delinquenti è inutile metterle al 41 bis metterle a carcere duro queste persone andrebbero mandate lontano nelle isole deserte nell'Atlantico avete capito solo così si potrebbe fare un pochino di giustizia perché noi l'idea della giustizia non sappiamo più neanche che cos'è la parola giustizia la parola giustizia è una parola in più inutile come può essere può essere amicizia come può essere amore sentimento queste sono parole in più che non hanno più un riscontro nella realtà la giustizia che cos'è la giustizia mi fa ridere la giustizia è uguale per tutti ma togliete quella frase che fa ridere fa ridere togliete quella frase fate schifo tutti tutti la giustizia la giustizia è uguale per tutti e poi i più grandi briganti che hanno commesso commesso reati terribili hanno i più grandi avvocati e questa è la giustizia uguale per tutti vi dovreste vergognare tutti falliti siete dei falliti sia politici sia magistrati sia tutti siete falliti vi siete venduti tutti per un pezzo di pane per un pezzo di pane vi dovreste vergognare tutti e parliamo di giustizia in Italia ma quale giustizia ci deve essere se una nazione fallita è nata fallita è stata messa su 160 anni fa proprio in uno stato fallimentare mettendo una nazione su con la parte del nord che non avevano più una lira e quella del sud che dicevano che volevano liberare che era il regno più ricco d'Europa già è nata con un fallimento diciamo storico perché c'era metà Italia fallita che ha rubato tutti i soldi all'Italia del sud per poter portarsi di nuovo in gareggiata e continuare ad andare avanti ed è bello andare in una famiglia fottere tutti i soldi a questa famiglia portarseli in casa propria e poi io vado a prosperare e quella famiglia che ho rubato che ho saccheggiato va a finire in mezzo alla strada questo è il destino che ha avuto l'Italia i signori del nord non avevano più una lira sono venuti al sud con la scusa di salvare l'Italia hanno fatto come in grosso modo come hanno fatto gli inglesi i francesi i portoghesi gli spagnoli i tedeschi gli olandesi che andavano in altre nazioni che dicevano là che portavano la civiltà e la libertà invece li saccheggiavano prendevano il bottino e correvano in casa propria e il nord ha fatto così quel bastardo di Capur Garibaldi capito sono venuti giù dicendo che avrebbero liberato il sud il sud il regno più ricco d'Europa si sono fregate tutti i soldi se li sono portati al nord hanno cominciato a investire in fabbriche in ricchezze in azioni che avrebbero prodotto ricchezze e il sud è stato abbandonato nella miseria creando il brigantaggio creando il brigantaggio e queste persone poi continuando nel tempo si schifavano di guardarci dopo che ci hanno rubato ci hanno saccheggiato e ci hanno lasciato nella povertà più becera e ci hanno fatto diventare briganti e noi dovremmo stare ancora con questo individuo io mi vergogno io sono un italiano indubbiamente lo dico sempre ma un italiano del sud questo è poco ma sicuro a voi tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti